carissimi ma soprattutto carissime bentornati qui su tanta passione lunedì 10 gennaio ed eccomi ad analizzare la ventunesima giornata di serie a che si concluderà tra oggi e domani con torino fiorentina e cagliari bologna sei contento alberto vedi sono preciso e dettagliato come piace a te e niente partiamo subito col botto perché il milan si era portato momentaneamente solitario al primo posto dopo la vittoria in laguna contro il venezia teo hernandez sugli scudi teo hernandez giocatore straordinario con la fascia di capitano ieri in virtù dell'assenza dei vari romagnoli calabria e che dire è stato lui insieme a leao che al momento sembrano proprio imprendibili sulle fasce a dettare legge perché infatti il milan è passato in vantaggio dopo appena 120 secondi con ibraimovic bravo in un tappin vincente dopo che leao gli aveva servito una una palla praticamente su un piatto d'argento e poi comunque sia il milan ha continuato a spingere lo stesso teo hernandez ha realizzato un gol dei suoi di velocità potenza tecnica lui che dice sto migliorando proprio perché mi ispiro a paolo maldini voglio sempre diventare più simbolo di questa squadra il rinnovo è vicino è proprio lo stesso paolo maldini fu lui a convincere i giocatori francese nel 2019 a trasferirsi a milano poi dopo lo stesso teo hernandez ha realizzato un rigore fantastico sotto l'incrocio e quindi una doppietta per lui credo che sia il primo difensore in assoluto nella storia del milan aver realizzato tre o quattro doppiette in in serie a quindi il milan che per cos'è stato 5 6 7 ore si era portato momentaneamente primo in classifica con 49 punti lo stesso stefano pioli che già in settimana va detto vogliamo fare meglio dell'anno scorso non so se intendesse a livello di punti perché l'anno scorso il milan arrivò secondo con 79 punti appunto e oppure se se loro ambiscano al primo posto anche se poi dopo ha fatto molta pretattica perché nel dopo partita detto condivido l'analisi di massimiliano allegri l'inter extra favorita e poi dopo sullo stesso piano ci sono altre squadre come il milan a juve il napoli e l'atalanta non lo so sarà un uomo particolarmente onesto o un gran paraculo lo scopriremo soltanto vivendo poi dopo la domenica pomeriggio comunque si è contraddistinta per tante partite interessanti una su tutte il sassuolo che ha demolito l'empoli fuori casa 5 a 1 gol di berardi doppietta di raspadori doppietta di scamacca giocatore secondo me scamacca oramai che io prenderei a volo e soprattutto mi auguro che continui in questo stato di forma perché sarà fondamentale per per gli spareggi che si andranno a disputare a fine marzo il napoli invece ha vinto di misura 1 a 0 con un gran gol di petagna una girata al volo volante quasi una mezza sforbiciata lui che poi dopo è andato a esultare sotto sotto la curva e quindi boccata di ossigeno per spalletti che fortunatamente si era negativizzato e quindi poteva guidare la squadra dalla panchina quindi in virtù di questa di questa vittoria il napoli si era comunque va consolidato il terzo posto anche se potrebbe essere scavalcato dall'atalanta perché credo il napoli sia 43 l'atalanta ne ha 41 l'atalanta che è riuscita a giudicarsi il primo sette 6 a 2 in quel di udine anche in questo caso tante tante polemiche perché marino diceva è stata una partita che sembrava così organizzata tra scapoli ammogliato all'ultimo secondo giocatori che non si allenavano giocatori che trovati positivi al covid alla fine ognuno cerca di portare l'acqua suo morino ripeto io non sono un esperto quindi mi baso semplicemente sul calcio giocato e l'atalanta insomma ne ha fatti 6 e comunque gli mancavano anche tanti tanti giocatori quindi l'atalanta dovesse vincere il recupero andrebbe a 44 quindi scavalcherebbe il il napoli al momento c'è anche una vera e propria classifica virtuale però poi dopo si giocava a c'è stato comunque a onore del vero nord e cronaca una vittoria fondamentale della salernitana fuori casa a verona una boccata di ossigeno per la squadra di colantuono fa molto importante in prospettiva in ottica salvezza e anche lo stesso spezia vinto fuori casa contro il genova quindi dietro veramente incomincia a muoversi la classifica secondo me fino a 5 6 squadre possono essere risucchiate in questa lotta per non retrocedere come dicevo poi dopo c'è stata una partita pirotecnica all'olimpico morigno contro allegri la roma contro la juventus e io devo dire che ci sono stati dei veri e propri fenomeni paranormali sarà stato che l'influenza di zio giorgio e di ammedeo ma insieme si sono coalizzati perché giorgio gufava lui da laziale contro la roma in maniera incredibile ammedeo mandava messaggi dopo il 3 a 1 dicendo questa juve è una juve scandalosa senza delict chiesa e di balla siamo imbarazzanti da retrocessione fatto sta che la juventus ha segnato tre gol in sette minuti ma ritorniamo in ordine cronologico la roma era passata in vantaggio su un colpo di testa è realizzato dal calcio d'angolo di abram un po' tutti come delle belle statuine e dopo i che di balla ha realizzato il pareggio un gol straordinario nota davvero dolente l'infortunio di federico chiesa si sospetta rottura del crociato io veramente faccio un grandissimo in bocca al lupo federico chiesa che è stato fondamentale per la vittoria dell'europeo è un giocatore troppo importante per il movimento italiano io gli faccio un grandissimo in bocca al lupa federico torna più forte di prima mi auguro incrociamo le dita che non sia così grave il tuo infortunio poi nella ripresa la roma ha fatto un 1-2 terrificante che avrebbe ammazzato qualsiasi squadra perché mkhitaryan ha usufruito di una deviazione fortuita per trafiggere cesni e poi pellegrini ha realizzato un calcio di punizione meraviglioso che ha ricordato un po' i calci di punizione alla totti me lo ricordo in un roma inter quando riuscì a superare Toldone però la Juventus che non lo so ha qualche cambio tattico è entrato Morata poi Morata ha propiziato l'assist per il colpo di testa di Locatelli poi dopo anche Morata ha fatto una specie di assist per Kuluseski e De Sciglio che non segnava in Serie A dal novembre del 2017 ha realizzato il 4-3 ma poi le emozioni non sono finite perché De Ligt ha procurato un calcio di rigore per un fallo di mano lui che è un po' un difensore molto generoso ma devo dire dovrebbe cercare di tenere le braccia un po' più vicine al corpo perché questi episodi sono già capitati nel passato ma Cesni ha ipnotizzato pellegrini che poi dopo sulla corta ribattuta del estremo difensore Juventino non è riuscito a ribattere in rete secondo me Amedeo e Zio Giorgio si sono concentrati così tanto che l'hanno fatto scivolare quindi la Juventus può festeggiare nonostante abbia perso un pezzo fondamentale della squadra altri giocatori che praticamente sono stati quindi squalificati salteranno la finale di Supercoppa italiana mi riferisco a De Ligt e a Quadrado però questa potrebbe essere una vittoria che dà una grande iniezione di fiducia alla squadra di Torino che al momento consolida il quinto posto ed è lì in scia tentando di inserirsi tra le prime quattro per il momento e veniamo poi al super big match della serata logicamente tutti i gufi erano lì pronti a tirarci i piedi Maurizio Sarri veniva a San Siro parentesi oggi è anche il suo compleanno Maurizio Sarri che fa 63 anni è stata una partita che secondo me l'Inter ha dominato dall'inizio alla fine però poi dopo mi fa specie sentire dichiarazioni di Maurizio Sarri nel dopo partita in cui dice non abbiamo subito troppo tranne che per qualche spezzone la sensazione abbiamo dato una sensazione di solidità dobbiamo cercare di essere più compatti perché davanti abbiamo giocatori di qualità e tiriamo sempre qualcosa fuori negli ultimi tempi sembrava che avessimo fatto passi avanti poi la gara con l'Empoli ci ha lasciato tanti dubbi stasera è stata una prestazione importante abbiamo fatto una buona partita siamo stati più attendisti nel primo tempo ma nella ripresa siamo stati più intraprendenti abbiamo giocato a viso aperto senza timori io non lo so se questa partita lui se la sia sognata come lo stesso Milinkovic Savic che nel dopo partita ha detto avremmo meritato il pareggio l'Inter ha praticamente schiacciato la Lazio la Lazio che era lì tutta dietro ad aspettare di ripartire Sarri che viene sempre osannato come maestro di calcio lo stesso Maurizio Sarri che comunque sia in passato lavorava in banca e poi quando gli hanno fatto una domanda sul mercato ha detto siamo bloccati da indice di riqualità ma che non sono ancora riuscito a capire che cosa Razzo significhi va bene a livello mediatico Sarri ogni volta secondo me ha un po' di difficoltà e ripeto si lamenta sempre di giocatore abbiamo giocatori che non sono adatti a giocare in questo modo per i miei gusti abbiamo preso troppi gol è abbastanza semplice e facile sempre lamentarsi vorrei ricordare Stefano Pioli che da due anni a questa parte sta facendo un lavoro fantastico al Milan ha avuto tantissime disavventure giocatori infortunati, giocatori bloccati dal Covid ma non si è mai lamentato Gasperini fa un lavoro eccezionale all'Atalanta l'anno scorso Antonio Conte ripeto forse godrà di meno simpatia però lo stesso Antonio Conte se al momento Alessandro Bastoni è quello che è è stato lui a scommetterci e a farlo crescere è stato lui a scommettere su Barella è stato lui comunque a insistere su Skriniar dicendo che è un giocatore, un difensore forte può giocare anche nella difesa a tre quando molti erano scettici quindi io vedo allenatori che hanno la capacità di far crescere e progredire i propri giocatori e anche di fargli acquistare maggiore consapevolezza nei propri mezzi fatto sta che in passato mi ricordo ancora quando i giocatori dell'Inter del triplete dicevano per Mourinho io andrei in battaglia, in guerra, farei di tutto e lo stesso l'anno scorso tanti giocatori dell'Inter lo stesso Lukaku si è completamente rivalutato e riesploso grazie ad Antonio Conte ma veniamo alla partita di ieri Simone Inzaghi un gran vero signore anche alla fine quando è esultato in maniera molto composta se ne è subito andato nel tunnel che dire l'Inter prima gli è stato annullato un gol per un fuorogioco millimetrico un'azione meravigliosa di Alexis Sanchez che ieri è stato uno dei migliori in campo davvero fenomenale poi dopo miracolo di Stracoscia su un cross di Dunfriss una girata a volo di Lautaro Martinez dopodiché c'è stato il gol meraviglioso da 30 metri di Alessandro Bastoni poi sul gol della Lazio praticamente ce lo siamo fatti quasi noi siamo stati molto polli a non per un'altra volta diciamo Cataldi ha fatto un po' una furbata perché quando c'è stata quella palla che è stata fatta a rimbalzare dall'arbitro Paeretto anche secondo me inadatto a questi livelli un arbitro che non mi piace assolutamente nel suo modo di condurre la partita a un certo momento è impazzito ha dato due cartelli di gialli rosso si è completamente confuso e dicevo fatto sta che hanno sbagliato dietro De Vrij Skriniar e poi Andanovic ha cercato di mettere una pezza a colore era troppo tardi e Immobile ha segnato ma dopo tolto un contropiede di Pedro che è stato neutralizzato da Andanovic nel secondo tempo tanta confusione Luis Alberto oramai è un giocatore completamente spaisato Felipe Anderson giocatore che ha stravoluto Sarri è un albero di Natale che praticamente oramai è spento non so da quanto tempo non si accende si è acceso solo nella partita di andata ha fatto quel gol della vittoria non me ne vogliono i tifosi della Lazio gli amici però io veramente sono stra soddisfatto di aver battuto questa Lazio mi dispiace finché ci sarà Milinkovic Savic che è un giocatore che secondo me è poco sportivo e Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio io avrò sempre questo comportamento nei confronti di una squadra che così nei fatti dovremmo essere gemellati però non lo vedo ogni volta danno sempre tutto menano molto di più se poi si considera una squadra tecnica una squadra che fa bel calcio non lo so onestamente la Lazio vorrei ricordare ha 32 punti in classifica in questo momento e i giocatori buoni ci sono e come ieri mancava soltanto Acerbi per quanto riguarda i titolari che dire Simoninzaghi sta veramente facendo un grande lavoro sta mettendo nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi Brozovic come al solito ieri fenomenale poi ripeto Bastoni stratosferico lo stesso Brozovic Barella un po' più ha fatto un lavoro oscuro Gagliardini che io massacro sempre devo dire che è stato fantastico nel neutralizzare Milinkovic Barella Berisic anche lui un grandissimo faticatore una specie di allenatore aggiunto in campo però il campionato è ancora lunghissimo è ancora vincente può succedere di tutto adesso ci apprestiamo a disputare la Supercoppa Italiana mercoledì a San Siro contro la Juventus e poi invece il campionato ritornerà con un super big match domenica prossima sempre di sera contro l'Atalanta di Gasperini vorrei ricordare l'Atalanta secondo me in questo campionato è l'unica squadra che veramente ci ha fatto soffrire ci ha messo sotto in davvero da un punto di vista fisico ma anche in alcuni frangenti da un punto di vista del gioco quindi sarà una partita sicuramente molto molto delicata con questo è tutto vi saluto buona settimana amanti del calcio piccola parentesi la notte scorsa è ritornata Clay Thompson è ritornato Clay Thompson a giocare dopo quasi tre anni 17 punti realizzati in 20 minuti di gioco sono strafelice anche se è un altro sport però su questo canale io cito tutti gli eventi sportivi che per me sono importanti aspettavo questo momento da tantissimo tempo quindi bentornato Clay con questo è tutto ci risentiamo presto e alla prossima ciao ciao